Intanto devo ringraziare tutti perché gli interventi di ciascuno hanno arricchito le mie condizioni, hanno ampliato il mio campo di indagine. Oggi tiro, per così dire, la riga perché termino l'ascolto con il Movimento 5 Stelle. Poi mi prendo un breve, brevissimo periodo di riflessione per analizzare tutte le varie proposte che sono state qui elaborate. Quindi più tardi darò ulteriori notizie sul programma che andrò a redigere insieme alla maggioranza e mi auguro appunto sempre con la partecipazione di una opposizione dialogante.